Il pezzetto dell'asciugamano cicic Controlliamo la frizzatezza, le assaggiamo tutte e poi scegliamo Ti ha cosciuto? Facile, Rio Blu, perché alla mia super famiglia piace una super acqua frizzante in modo equilibrato, leggera e buonissima Rio Blu, ci piaci tu, è verocchietta Rio Blu, la qualità vale di più Me la vedi? Doro Cicc enorme Nel pieno possesso delle mie facoltà, lascio le mie proprietà come sempre Una questione di eredità Quanto alla studeria, il mio desiderio che vada a mia figlia Alexandra Vink Spirito libero, in prima assoluta, prossimamente, su canale 5 Buonasera Ti sto guardando Cicc Buonasera sta mosca il mondo degli io su io che del mondo dei noi non siamo ed ecco la proposta degli io su io